ma io credevo di avere cliccato su avvia la diretta molto bene, molto bene vi salutiamo vi salutiamo e benediciamo dalla veneranda casa madre di Genova Sita nella città santa abbiamo ricevuto una notevole quantità di messaggi di varia natura utilizzando twitch, utilizzando facebook, instagram, whatsapp anche gli sms sono tutti i dati che voi potete trovare facilmente andando nel sacro sito ufficiale in quattro lingue divinotelma.com per chi non avesse mai assistito a questo programma che va in onda su twitch rammentiamo che va nell'etere e si sparge nell'ecumene il lunedì, il lunedì alle ore 21 in diretta infatti oggi siamo in un lunedì poi chi l'avesse perso può rivederlo su facebook e anche dopo qualche ora su youtube naturalmente nei nostri canali ufficiali questo è ovvio i messaggi i messaggi le vostre richieste, le vostre domande possono essere anche questo è ovvio avanzati durante le dirette nulla lo impedisce e noi terremo conto quindi sia dei messaggi delle domande che arriveranno attraverso twitch sia di quelli che già sono arrivati o arriveranno utilizzando tutte le varie possibilità che abbiamo detto sappiamo ce l'hanno detto anche tanti di voi ma l'avevamo appreso anche da fonti dirette sappiamo che si è verificato nel sud Italia un fatto di eccezionale gravità a nostro avviso un atto di barbarie non tanto incredibile perché noi sappiamo che il genere umano racchiude in sé il bene e il male quindi ci sono persone buone e gentili e ci sono anche dei mascalzoni dei criminali degli esseri barbari e mostruosi indegni di vivere che non avrebbero mai dovuto nascere probabilmente nell'attimo in cui sono stati concepiti gli dèi immortali facevano altro si sono distratti per un attimo questi mostruosi individui non meritano alcuna pietà se nascono una volta accertato che sono loro i colpevoli di questo crimine mostruoso dovrebbero essere spacciati via dalla faccia della terra questi maledetti bastardi questi rifiuti non del genere umano ma del genere sub-umano questi mostruosi semi semi uomini non sappiamo come definirli questi non possono essere definiti esseri umani sono dei mostri noi auspichiamo certamente che costoro siano acciuffati rapidamente esposti all'agonia dove chiunque passando può lanciare qualunque cosa nella loro direzione come si faceva ai bei tempi chi pomodori chi zucchine chi patate chi pietre perché con tante pietre si può eliminare questi maledetti bastardi dalla faccia della terra poi c'è il vantaggio anche che la lapidazione consente di risparmiare risorse se noi dovessimo fucilarli sprecheremmo se lo facesse ad esempio un plotone di carabinieri o di polizia di stato comunque sprecheremmo delle risorse anche le pistole i fucili hanno un costo le pallottole hanno un costo perché sprecare queste preziose risorse quando ci sono tante pietre solide ben temprate rocciose e possono essere usate per spazzare via questi sporcaccioni questi maledetti questi omicidi noi suggeriamo infatti di usare la lapidazione che non comporta spese accessorie per le casse dello Stato si possono chiamare anche dei volontari accorrerebbero a migliaia quelli che certamente vorranno punire questi maledetti bastardi questi assassini perché chi fa queste cose poi ne può fare altre e questa volta quell'altro potrebbe essere ciascuno di voi certamente avete capito carissimi di cosa stiamo parlando stiamo parlando di quei criminali che hanno imprigionato delle tartarughe marine le hanno legate per le pinne attorno ad un macigno o magari altro di cemento probabilmente che poi hanno buttato nel fondo del mare queste meravigliose creature innocenti che non fanno male assolutamente a nessuno sono stati esposti ad una morte orrenda non potendo incamerare ossigeno la loro morte è stata certamente straziante dolorosissima noi ci chiediamo come sia possibile che si possa arrivare a tale forma di barbarie chi ha fatto questo è un mostro non può essere trattato come un essere umano va assolutamente emarginato annientato e chiunque lo faccia è benemerito chiunque lo faccia quando si presenterà nell'altra dimensione e quando dovrà presentarsi davanti al giudice del bene e del male non potrà accedere ma precipiterà tra infiniti tormenti dolori inenarrabili se avete qualche utile informazione perché questi criminali poi a volte si lasciano andare a confidenze magari sono con l'amante nel talamo mezzi ubriachi e si lasciano scappare che lui ha partecipato oppure lei ha partecipato al crimine orrendo l'assassinio di queste povere tartarughe di mare ebbene se avete per caso qualche informazione fate la cosa giusta andate nella prima stazione dei carabinieri o della polizia di stato o anche una caserma di militari e denunciate il fatto avvertite la stampa fate il nome fate il nome di questi criminali che lo sappiano le loro madri che hanno allevato che lo sappia il loro fratello la loro sorella i suoi parenti i suoi amici tutti devono sapere che accanto a loro vive un mostro potenziale capace di fare altri crimini di uccidere altre tartarughe fate sapere alle forze di polizia dell'esercito dei carabinieri che comunque sono esercito anche loro come è noto si sappia il loro nome il loro cognome dove abitano in quale luogo infame che può essere liberato soltanto se il criminale viene denunciato e viene riscattato l'onore del luogo la nostra solidarietà comunque come avrete compreso va anzitutto alle povere vittime queste gentili tartarughe di mare che potevano vivere sguazzare gioire essere felici ed invece sono state assassinate in un modo ignobile che non ha possibilità di commento e di assoluzione ma soltanto inevitabilmente di dura condanna vediamo che arrivano in continuazione messaggi di solidarietà per le tartarughe ma anche su altri argomenti vediamo un attimo qui quello c'è ma sì naturalmente naturalmente sappiamo che Matteo Messina Denaro è stata è stato catturato lo sanno tutti lo sappiamo anche noi anche perché tra l'altro come molti di voi ben sanno noi avevamo già preannunciato da tempo che a breve sarebbe stato catturato quindi non è che la notizia ci sorprenda più che tanto era prevedibile l'avevamo previsto è successo e non è che sia molto difficile sapere capire ipotizzare prevedere cosa potrebbe accadere ad una persona come Matteo Messina Denaro perché non è difficile perché applicando dei normali strumenti di logica formale se l'avvocato supponiamo di un criminale come questo signore dice parliamo di ipotesi naturalmente noi non sappiamo che sia l'avvocato di questo signore parliamo in questo caso di una riflessione di carattere generale cioè se un avvocato di un criminale di questo spessore noi abbiamo assistito proprio ad una dichiarazione qualche anno fa di questo tenore l'avvocato che era interrogato gli si chiedeva il suo cliente che non si fa vedere da mettiamo vent'anni secondo lei dove si trova e l'avvocato naturalmente facendo il suo mestiere ha risposto ma si trova con ogni probabilità in sud america certamente non si trova in sicilia supponendo che fosse la sicilia ecco potete stare certi figli di letti che l'avvocato facendo il suo mestiere mente è assolutamente ovvio e che invece la verità è il contrario se lui dice che non sono in Italia perché per le più varie ragioni che magari potrebbe essere esposto ad appresaglie da parte dei suoi colleghi allora questo vuol dire se l'avvocato dice che non è in Italia che c'è che è in Italia e se l'avvocato dice che l'assistito il cliente assistito si trova a 5.000 6.000 7.000 8.000 chilometri di distanza per esempio in Brasile in Argentina magari negli Stati Uniti anche se è più probabile che sia un paese non completamente civilizzato è più facile sfuggire ma comunque certamente la verità è l'opposto che non è lontano è vicino anzi vicinissimo infatti questi signori quando poi sono catturati dove vengono scoperti ma vengono scoperti in luoghi altamente civilizzati dove ci sono ospedali che funzionano per chi paga naturalmente perché chi non paga lo manderebbero nell'assistenza pubblica e un boss certamente non va all'ambulatorio del quartiere va in una clinica specializzata dove arriva il meglio da tutto il mondo non sta rinchiuso in una tana con topi con scarafaggi con serpi mezzo mezzo sgangherato affamato magari insomma nulla di tutto ciò utilizza le cliniche migliori va nei ristoranti migliori certamente fa in modo di non dare nell'occhio ma a parte questo se lui è ben vestito e va nel migliore ristorante della città non dà nell'occhio perché vanno tutti lì quelli che possono andarci e quindi lo capite bene quindi noi non siamo stupiti anzi noi veramente ci chiediamo ma ci volevano trent'anni ci volevano trent'anni per catturare questo signore un'altra riflessione che sgorga dalla nostra mente è questa se ci sono voluti trent'anni è perché ha avuto molti complici molti fiancheggiatori molte persone che lo hanno sorretto nutrito nutrito non tanto in termini economici ma in termini di garanzia di sicurezza non è pensabile che se non c'è una cintura di sicurezza attorno a lui possa rimanere per chissà quanto tempo in libertà e non si tratta solo di protezione della sua congrega ma di protezione a nostro avviso a livelli di altro genere mondo politico senz'altro senz'altro e i soggetti inseriti nei gangli vitali dello Stato quindi il settore dell'ordine pubblico il settore della sicurezza perché solo infiltrando nei gangli dello Stato che si occupano della sicurezza qualche complice è possibile far arrivare come in questo caso al criminale di turno è possibile far arrivare qualche informazione utile per potersi destreggiare per poter magari spostarsi da un luogo ad un altro scansare qualche informatore finto amico e via e via riscorrendo quindi certamente noi siamo lieti che i nostri carabinieri che sono sempre assolutamente efficienti abbiano ottenuto un risultato così smagliante e l'hanno ottenuto hanno fatto bene anche a sottolinearlo anche grazie alle intercettazioni telefoniche certo noi terremo d'occhio l'evolversi della situazione circa le intercettazioni perché coloro che si danno tanto da fare per far sparire le intercettazioni come lontano ricordo da rimuovere fanno naturalmente gli interessi della criminalità organizzata o della criminalità incipiente tutto quel sottobosco collegato a ruoli anche ufficiali certamente le intercettazioni una volta eliminate si tornerebbe ad un livello di maggiore debolezza avremmo molti più criminali in circolazione e avremmo delle situazioni incontrollabili quindi al di là della appartenenza a destra a sinistra al centro noi siamo assolutamente lieti siamo lieti e fiduciosi che l'attuale governo di Giorgia Meroni prosegua nella sua opera ma siccome al governo non c'è solo Giorgia Meroni c'è un governo di coalizione quindi in un governo di coalizione si potrebbero presentare situazioni complicate per le più varie esigenze ognuno vuole piantare una bandierina per far notare che c'è anche lui o c'è anche lei questi grotteschi politicanti da strapazzo che ogni tanto si fanno sentire con banalità sconvolgenti che dire adesso abbiamo e con ciò rispondiamo anche ad una domanda che è pervenuta da Roma ed un'altra che è pervenuta da Sesto San Giovanni quindi queste persone ci chiedono chiarimenti sull'esito delle prossime elezioni regionali praticamente in Lazio e in Lombardia non è che sia una novità che quando ci sono delle elezioni ci capitano montagne di richieste e ci si chiede soprattutto la stampa sia scritta sia per immagini ci chiedono di svelare in anticipo il risultato noi lo faremo lo faremo lo faremo prima che si voti naturalmente pensiamo che grazie alla estrema incapacità alla sconclusionatezza all'ambiguità di certe forze politiche ma soprattutto diciamo pure il PD che poi sia così sarebbe strano non lo fosse perché come può Enrico Locchialuto vincere Enrico Locchialuto e lo abbiamo detto più volte è uno di quei soggetti che sono destinati a perdere e infatti lui ha perso in continuazione a questo punto possiamo anticipare che per quanto riguarda il Lazio se il centrodestra rimarrà unito senza attivare diatribe interne ma solo a questa condizione la vittoria è sicura la vittoria è sicura tra l'altro sarebbe stata sicura anche in precedenti elezioni se non si è vinto a Roma e nel Lazio carissimi del centrodestra è perché il centrodestra non è stato unito e non per colpa di Giorgia Meloni non ci risulta anzi bisognava appoggiare per esempio proprio Giorgia Meloni e si sarebbe vinto in precedenti elezioni senza dubbio quindi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli saremmo molto sorpresi se Enrico Locchialuto potesse celebrare una vittoria e stappare qualche sorso di Moscato anche se si alleasse con il Duce Puffo e con Mortiscia la Develitta messi tutti e tre assieme anzi noi confidiamo speriamo vivamente che lo facciano fallo Puffo alleati con Locchialuto alleati con Mortiscia assisteremo così a un'altra tua solenne trombatura speriamo ma ci crediamo poco perché stupido fino a quel punto francamente no naturalmente il discorso che noi abbiamo fatto vale anche al contrario quanto alla questione della Lombardia di questo parleremo lunedì prossimo intanto vi abbiamo già offerto questa primizia cioè la situazione nel Lazio volevamo dire un'altra cosa adesso vediamo perché ci chiediamo se ci convenga dirla adesso oppure no ci pensiamo ci pensiamo e poi vi facciamo sapere comunque sono arrivate nel frattempo altre interessanti questioni sì 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 ecco qua ci sono due o tre domande che sono concatenate perché una riguarda la situazione economica italiana nei suoi vari aspetti con un occhio puntato sulla energia ma noi abbiamo già detto più volte che la situazione economica peggiorerà peggiorerà sicuramente non vi è alcuna possibilità nel medio tempo di poter recuperare per esempio sul fronte dell'inflazione l'inflazione è destinata a stabilizzarsi ma con un lento progressivo inarrestabile salto di qualità quindi dal punto di vista pratico la vita degli italiani italiani e così ti rispondiamo caro Livio di Trieste la vita degli italiani è destinata a peggiorare il carrello il famoso carrello della spesa certamente si riempirà sempre meno e anche per la benzina sappiamo che a molti interessa questo argomento infatti abbiamo ricevuto molte richieste conclusive sulla questione benzina noi senza ombra di dubbio riteniamo che il trend sia ascensionale quindi nessuno si illuda che si torni ai tempi del pre covid e neppure ai tempi del pre guerra in Ucraina non accadrà né una cosa né l'altra vi esaltiamo pertanto a ridurre le spese a conservare qualche gruzzolo perché il tempo della cuccagna è finito se mai c'è stata in passato una pacchia per alcuni non certo per tutti la pacchia adesso non c'è più certamente non tornerà nel 2023 adesso è inutile che ci occupiamo del 2024 ne parleremo quando sarà il momento ma comunque nel 23 non vi aspettate nulla di particolarmente gioioso perché noi vediamo figli di letti lacrime e sangue un altro grande problema che riteniamo nel 2023 purtroppo non sarà risolto è quello della invasione in atto del territorio nazionale ora qui su questo argomento abbiamo ricevuto una valanga di quesiti c'è chi dice bisogna sparare sui barconi c'è chi dice bisogna buttare bombe a mano che sono più pratiche oppure una fantasiosa signora di Bologna suggerisce di creare un nuovo gioco spara all'invasore e poi naturalmente il gioco prevederebbe dei premi chi colpisce un invasore guadagna un tot chi colpisce due guadagna un tot suppletivo chi colpisce tre invasori ancora di più naturalmente questa signora molto intelligentemente dice però bisogna provare ciò non basta la parola di un tizio che per accappararsi il premio dice io ho colpito tre invasori datemi calcolando cento euro per ogni invasore quindi sarebbero mettiamo trecento euro ci sarebbe poi un esercito di volontari disponibile ad andare a Lampedusa o in altri luoghi utilizzando pietre per esempio pietre che è una tecnica economica quanto meno economica perché le pietre le trovate senza spendere niente in pratica andate ai giardini pubblici andate per chi è attorno alla spiaggia o nelle vicinanze del mare andate sulle spiagge e prendete una riserva di pietre che poi potrete usare al momento opportuno quindi bisogna provarlo e sì signora si chiama Elisabetta sì signora cara Elisabetta noi abbiamo capito il tuo suggerimento troviamo che sia suggestivo sappiamo anche che qualora si decidesse di creare una milizia per la sicurezza nazionale con il compito specifico di presidiare ogni valico d'ingresso nel territorio italico che è poi anche il territorio per nostra disgrazia dell'Europa se ne troverebbero una caterva basterebbe fare un annuncio basterebbe che il ministro degli interni si presentasse in tv magari a reti unificate o anche o Georgia naturalmente è chiaro che se lo facesse Georgia l'appello al popolo italiano per difendere il territorio nazionale italiani correte sulle spiagge e ovunque vi siano pietre fate buona provvista di pietre perché costoro queste pietre serviranno per liberare l'Italia dagli invasori l'Italia sarà divisa in tanti settori e non avrebbe senso fare spostare dalla Sicilia o dall'Ampedusa dei locali i locali seguendo la strategia nazionale avendo a disposizione un bel sacco di pietre resteranno dove sono è più comodo più economico non si intasano i luoghi di partenza e di arrivo sarebbe un successo clamoroso anzi Giorgia noi te lo diciamo affettuosamente fallo fallo avrai la simpatia l'appoggio il consenso e tanti bei voti perché poi avrai tanti bei voti in più quelli che hai sono già tantissimi hai straccionato tutti coloro che hanno tentato di buttarti giù sei ancora più in alto non cadrai perché la tua caduta come abbiamo già detto altre volte cadendo te cadono anche tutti i birilli che sono attorno a te perché se tu non ci sei loro non sono niente niente devi tenerti accanto te l'abbiamo già detto ai tempi della storica adunanza di piazza del popolo a Roma la prima noi sapevamo che c'era abbiamo anche inviato un messaggio di benedizione per te e per il tuo sodale e abbiamo detto e trovi testimonianza sull'espresso che è uscito proprio ai tempi della radunanza di Roma avevamo detto che il centrodestra avrebbe vinto anche in futuro però ad una condizione che doveva essere unito è una condizione imprescindibile non ci devono essere smagliature magari qualche piccolo qualche piccola critica ma proprio piccola piccola perché il popolo vuole fatti il popolo vuole decisione e a chi c'è contro di te Giorgia ogni tanto noi vediamo apparire in televisione qualche decrepito simil giornalista poveri idioti uno peggio dell'altro non conoscono la consecuzio temporum non conoscono la lingua italiana figuriamoci il latino figuriamoci l'inglese anche se hanno il coraggio di cimentarsi sia con l'uno che con l'altro vediamo vediamo che ci sono politici che ripetono sempre le stesse cose sono monocordi noiosi ignoranti giornalisti poi come si è detto siamo ad un livello proprio di sono tristi lo si capisce certi programmi della sette per esempio quando Lilly Gruber comincia a parlare già sai dove finirà si tratta di cripto comunisti sostanzialmente e se non sono cripto comunisti sono dei poveri idioti tanto è vero che tutte le loro previsioni sono state smentite al contrario delle nostre che invece hanno centrato costantemente il bersaglio si diceva della Gruber controlla la sua faccia esamina i suoi lineamenti e vedi una donna distrutta perché tutte le sue speranze del trionfo della sinistra del sole dell'avvenire eccetera eccetera tutto è successo ma al contrario la sinistra di un tempo ora vota per la destra sostanzialmente gli operai i contadini il ceto basso si diceva un tempo gli ultimi della terra votano per te Giorgia non gli interessa il sole dell'avvenire gli interessa il popolo italiano una bella pagnotta succosa di cui cibarsi in gran fretta perché la pagnotta in questo momento c'è ancora ma non è detto che ci sia domani quindi dovresti Giorgia tenerti sempre in stretto collegamento con Matteo te l'avevamo già detto ai tempi della radunanza di Piazza del Popolo questo è l'asse dell'Italia e allora non ci sarà gara perché gli italiani non hanno dimenticato cosa è accaduto in questi ultimi 15 anni hanno assistito a scene indicibili ma ti rendi conto l'avvocato Gattamorta ma come si fa ma come si fa a dare spazio a Gattamorta che è l'uomo arcobaleno sì nel senso che lui si allea con chiunque con chiunque gli dia uno spazio politico Gattamorta è di destra o di sinistra è di centro-destra o di centro-sinistra o è soltanto di centro oppure semplicemente non è niente perché sotto il profilo culturale è inesistente le cose che dice sono assolutamente banali irrealistiche si pensi al reddito di cittadinanza su questo argomento siamo stati inondati di messaggi per esempio Giovanna di Rimini Giovanna di Rimini affronta il tema relativo a Gattamorta chiedendo se avrà un ruolo politico anche in futuro altri pongono il tema più in generale del Movimento 5 Stelle e di quale strada prenderà verso il consenso o verso l'insignificanza questo lo chiede per esempio Giorgio di Torino francamente non possiamo che ribadire quanto più volte avevamo anticipato ecco abbiamo sì ci dicono che siamo sovrabbondanti in fatto di domande di richieste di ogni genere comunque per chiudere il discorso sui 5 Stelle poi poi ci avviamo alla conclusione 5 Stelle finché Gattamorta questo sinistro personaggio l'uomo per tutte le stagioni no su questo punto c'è ampio consenso finché c'è lui noi siamo tranquilli noi i patrioti i patrioti possono soprattutto stare molto tranquilli perché finché c'è Gattamorta a fronteggiare il centrodestra beh è talmente squalificato questo individuo è grave pericolo peraltro per la democrazia perché è un aspirante dittatore Gattamorta lo si è visto con con quei foglietti che lui ogni tanto faceva uscire nel tempo della pandemia come si chiamavano dpcm quindi sarebbero decreti della presidenza del consiglio dei ministri che sono incostituzionali i giuristi ben sanno che sono pezzi di carta senza valore lo sono lo erano e se ce ne fossero ancora lo saranno sono assolutamente incostituzionali a noi era capitato ai tempi della pandemia che un un agente di polizia non di stato ma municipale vedendoci girare nella città santa senza mascherina ci chiese di metterla perché c'era un decreto del sindaco noi avremmo potuto anche metterla questa mascherina perché l'avevamo al braccio quindi ma vi era una fondamentale questione di principio e quindi noi ci siamo rifiutati naturalmente e abbiamo detto a questo gentile agente di polizia municipale non era sua la colpa naturalmente la colpa casomai era di chi non aveva studiato bene la costituzione della repubblica noi abbiamo fatto notare che la sua richiesta era per noi irricevibile che non avremmo che il decreto che lui citava era palesemente incostituzionale e gli abbiamo anche citato tutti gli articoli della costituzione che quel decreto violava in maniera sfacciata e naturalmente lui ha fatto quello che riteneva fosse il suo dovere cioè ha fatto una multa ha fatto bene era il suo dovere ha eseguito l'ordine mentre lì accanto c'erano altri agenti della polizia municipale che non sono intervenuti e avranno avuto altre cose importanti da fare comunque per arrivare al punto ci siamo posti abbiamo inviato rapidamente al prefetto in quel caso il prefetto di Genova una nota di una pagina e mezza che abbiamo buttato giù facendo notare che il sindaco aveva violato la costituzione che non poteva basarsi su una norma inventata così perché per esempio la costituzione prevede che i cittadini italiani possono fuoriuscire dai confini nazionali e rientrare a delibitum quindi quando vogliono anche dieci volte cento volte non dicono assolutamente né questo articolo né altri che devono uscire dai territori con una mascherina e rientrare con una mascherina a quei tempi sapete c'era l'obbligo nel momento stesso in cui noi abbiamo depositato il ricorso la multa è stata bloccata nel senso che non è divenuta operativa sapete cosa potrà accadere adesso che tutti quelli che hanno fatto come abbiamo fatto noi molto probabilmente non pagheranno la multa perché quando si entrerà nel concreto se un prefetto in qualunque parte d'Italia ricevesse una richiesta di blocco della multa impostata come noi l'abbiamo impostata se è colto se ha studiato la costituzione si rende conto che nessun sindaco e nessun governo può obbligare un cittadino a girare con la mascherina assolutamente no i cittadini non sono al servizio del pincopallo che interpreta a modo suo le norme che non si capisce bene quali sono non esiste un articolo nella costituzione che specifichi cosa si deve intendere per intervento straordinario eccezionale intervento in casi di emergenza in particolare non si dice da nessuna parte che i cittadini devono girare mascherati anzi ci sono norme altrove dove si dice esattamente il contrario che i cittadini devono farsi riconoscere quindi non mascherati comunque carissimi speriamo di aver accontentato le richieste di un x numero di persone vi ricordiamo che queste dirette del divino hotel masciovano in onda su twitch ogni lunedì alle 21 che sono rivedibili su facebook nel nostro profilo ufficiale e youtube quindi il prossimo incontro sarà lunedì prossimo in diretta spargete ogni otta la lieta novella e adesso se desiderate ricevere la nostra ecumenica benedizione fogliera di copiose grazie celesti e terrene aprite il palmo della mano sinistra nel gesto catartico per entrare insieme nella grande catena di forza positiva fonte di purificazione e di vita la nostra benedizione discenda su voi figli amatissimi e su voi rimanga per sette giorni benedizio nostra super vos discendat amatissimi figli et per septem dies maneat siate lieti noi vi benediciamo un po' Grazie.